No, però mi sono... Dentro, dentro... Eh, però segnalo, davanti. Davanti, davanti, davanti. Grazie. 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 Allora, pure lì potresti dire... Sì, infatti... Eh... Algerino. 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 Ma vedi che stai... Non stai sicuro. Ma era lì che... C'è tanta gente che hanno rovinato la festa. No, anzi... Ti girati, ti girati, invece. Ti ho ripreso. Ah, Giuseppe. Giuseppe. Sì, sì. Attenzione. Si, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Ma vè, va. Sì, sì.